Oggi un'emozione importante, una benemerenza che lo fa entrare nella storia della città. Quali sono le emozioni a caldo? Le emozioni a caldo? Perché io ho avuto molti assessori, però questa volta il sindaco Rubolo ha pensato a uno che si è impegnato, magari chiedendo e facendo delle idee chieste che mio figlio Michele non vuole, però io volevo una processione religiosa, più che altro politico, la volevo perché guardando le vare, se hai piede, come ho detto poc'anzi, ti metti a piangere perché non sono uguali a quelle di Sevilla, quelle non hanno più espressione. Lì ci sono le congregazioni, ma noi siamo grandi, tutta la Settimana Santa. Cosa significa essere una parte della storia della Settimana Santa? Significa, non vi posso ripetere, perché io da piccolo sentivo di essere picchino alla Settimana Santa, tanto è vero che quando ho conosciuto mia moglie nel 60, ero una parecchina, la più antica, del 24, fatta da un discepolo di Biancardi, con un zanno di San Gattardo, e poi magari mi sono fatto Gesù con la madre, con il buon anno dei Grimardi e poi abbiamo la vara simbola, non è la migliore, perché tutto è bello, la vara simbola è la deputazione, la scendenza, noi li chiamiamo, si chiedevano in Sena. A chi dedica questa giornata e questa benemerenza? A tutti voi, a tutti voi, a tutti i Nisseni, non la dedico né a mio figlio né a mia nipote, a Nisseni, perché questa benemerenza, i Nisseni me l'hanno dato già prima dal sindaco, prima del sindaco, i Nisseni, a Gordino, Taranto, Molpetta, me l'hanno già data questa, e a Seviglia, me l'hanno già data, perché a Seviglia siamo stati a Seviglia con la bandiera della Madonna del Rosario a Seviglia, a Svelare, con le Lanterne, ci sono andati i piccoli gruppi, mi conoscono pure l'anno. Che fine farà la settimana santa? Io dico che conduriamo, mi spaventa la real massazza, perché non ci sono gli artigiani, ma i piccoli gruppi, il detendore dei gruppi, sono attaccati più di me, i piccoli gruppi ci sono, le famiglie, quindi non si può mai perdere, anzi c'è un po' di cose che voglio venduta per lavare, voglio venduta per non si vende, si è venduta questa calcone, è stato fortunato che la cosa.